Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 tratto chiuso per lavori tra Pian del Voglio e Aglio in entrambe le direzioni e tra Albivio con la variante di Valico Baccheraia e Aglio in direzione Bologna. Verso Bologna rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In A12 code per lavori tra Carrara e Versilia in direzione Rosignano. Sulla FIPILI code per lavori tra Empoli Est ed Empoli in direzione Livorno. Sempre per lavori code tra Pisa Nord-Est e Pisa Centro in direzione Mare. Sulla statale Trebbis-Tiberina fino al 22 dicembre scambio di carreggiata tra i chilometri 149, 550 e 144,700 e chiusura dello svincolo di Pieve Santo Stefano Sud in entrata e in uscita in direzione Orte. Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio!